Buongiorno e buonasera, qui sono Yoshi e siamo su un nuovo video di evocazione di Faremblamiros Oggi siamo sul banner eroi caduti, gente che non mi aspettavo, mi aspettavo traccia, non so che dire Abbiamo a che fare con uno rosso, uno verde e uno blu, quindi quelli sono i colori che pulleremo Non mi entusiasma troppo sto banner, però diciamo che in un modo o nell'altro mi servono tutti e tre Selica perché è bella, Ardyn perché mi serve Fodder e Robin perché mi serve qualcuno, un drago verde che non faccia schifo Perché la mia Myr doveva essere meno attacco ovviamente Immaginate la frustrazione Quindi Questo sarà un video relativamente lungo perché sono uscito ad accumulare in qualche modo, non so neanche come ho fatto 100 sfere da spendere, quindi usiamole Coraggio Adesso che era niente, è che puoi far di meglio il gioco, Soren Ho finito quei Soren, ma adesso sono tutti Fodder Ho già Soren più 10, lascio perdere Ho già tutti Soren che voglio Mi sono deglinata Oddio, dai Un altro che devo mandare via Non mi entusiasma, ma vabbè Personalmente mi piace di più Selica degli altri due, ma Vabbè Zeltzer Ok, sto ancora cercando una Zeltzer più attacco Ok Perché mi serve Quella che ho al momento non è neanche più attacco Pensate Pochi blu oggi Vorrei audacia per F Non mi dispiacerebbe Peri Devo controllarla Sto ancora cercando una Peri Più velocità Come ho già detto, quella attuale più attacco Selica Oh, andiamo Sofia Ovviamente i grigi non li apro Provii ragioni Selica E' serica questa No Ok, dai Un merge È un merge Mere di niente Proseguiamo Tre blu Eccoli qua Eccoli qua il blu Questo non è Ardyn Lo sa L'animazione rallenta un pochino Quando è la gente nuova Non so perché Forse è questa Ardyn Ah, Oscar Questa Mi sa che è solo Ha stirato solo una lagata Dobbiamo anche controllare Gli Oscar che ricevo Perché Oscar è abbastanza buono Anche se ho già Peri Tecnicamente Oscar è leggermente meglio Come statistiche Ma tutti gli Oscar che ho ricevuto Fino adesso erano tutti Bah E quindi Claire Clic Ma su serio Wow Non credo che potessi Potessi trovare Wow C'è Claire Ma perché Claire Perché Claire Non credo che potessi trovare 5 stelle Vabbè Ora che ci penso Non poteva essere Lo kta 4 Però dai Tutta la roba Claire Non mi sembra neanche Particolarmente forte Come a guardare A occhio Di V Poi magari mi sbaglio Come sempre Li metto gli V In descrizione ma Cavolo Claire I pity breaker Quelli brutti Proprio però Di tutta la gente Che poteva uscire Claire ha Una bella Una bella Una bella Una bella immagine Quindi non me la posso Prendere troppo Però Cavolo Cioè Non è A livello di Merrick Ma sono leggermente Arrabbiato comunque Claire Coraggio Qualcosa che non sia Un pity breaker Oh mio Di un altro Pity breaker Ma sul serio Gufo Beh Questa è fodder per gufo Il problema è che Non so chi darlo Che polle Quello sono tutti i stili Pity breaker Voglio gente normale Voglio gente focus Chi ho troppo Gente focus Andiamo Claire e boy Ma sul serio La gente bella Non la posso avere Ho una F Ok E i tre E i tre Pity breaker Oh madonna Questa è la fondo Non ci penso su neanche La fondo Perché ne ho già Una più attacco L'ho appena promossa E tutto Wow Che video Tre pity breaker Non ci posso credere io Cina Non mi interessa Cina Cioè è bello Ok Tre Tre cinque stelle In sessanta sfere Ok fantastico Però Nessuno di queste È focus Volevo un focus Cosa ho fatto di ma Ma cosa Cos'è sto banner Cos'è sto banner Non ci posso credere Sembra più resistenza Spero di Aver ragione Sembra anche No O più resistenza O più attacco O una delle due Perché Mi sembra che Abbiamo un attacco Leggermente bassino Se ha brutti Io La uso per reazione Lesta Probabilmente Vediamo Però porco giuda È il quarto pt breaker Non puoi neanche chiamarlo pt breaker Perché non neanche Non sto neanche avendo l'occasione Di montarlo Il rate Non puoi neanche chiamarlo pt breaker È il quarto off focus In 70 sfere Pazzesco Wow Andiamo Almeno selica Dammi selica Non è possibile Dai Non ci voglio credere Ma tu fai sul serio Sto gioco Fa sul serio È il quinto Non ho parole Non vi mento signori Non ho paura Non ho parole Non ho letteralmente parole Cioè Non so che dire Non Ah Corri Sto per dire Anche questo è 5 stelle Sarebbe stato Abbastanza tragico Coraggio Dai Non è possibile Ok Allora Apro i rossi Perché mi interessa Selica Mi piace Dai 5 pt 5 off focus Non ci voglio credere Non mi interessi Cioè si mi interessa Cioè si mi interessa Il vantaggio Però Selica Cioè non credo a quello che vedo Non ci credo No questa non è la selica Mi sa Trauk Non puoi permetterti E ovviamente si chiude con Merrick Giusto per Non ci credo Oddio Ok Che video Non ho parole Ragazzi Non ho parole Non ho anche ricevuto fodder utile Non c'era fodder utile Non c'era Neanche una zelger più attacco Fantastico Boh Per il resto Cosa abbiamo Una F In più Una Claire Che non so come cacchio è E un boy Due eroi di fila Uno è più attacco Ah Uno è più attacco Ok interessante Però boh Certo Vediamo come va a finire Come al solito Metto l'IV In descrizione Dei ero delle volte a tutto Ok Però è tutto Questo era un video di vocazione Di Fire Emblemiros E io sono Shadow Yoshi Auguro Una fortuna migliore A Chiunque si metta a pullare Su sto banner Se il video vi è piaciuto Se volete vedere di più Lasciate un commento Mettete mi piace O iscrivetevi al mio canale Detto questo Poi abbiamo concluso Perciò ci vediamo come sempre In un prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti